raga non potete capire cosa mi è successo ieri hai rimesso una volta il microonde si no raga peggio avete presente la tipa che fa ripetizioni con mia madre la strabica con le tette grosse no quella con l'apparecchio le tette medie a si 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 ho capito abbiamo cominciato raga grande anche io ho chiuso il trick c'è una foto voglio vedere no ma fa schifo si lascia bella non è vero che fa schifo comunque lascia vede la foto non ho detto la cosa più importante no 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 cioè se sono sozzeri vostri io non le voglio sapere no ma che si no a dircela allora non c'aveva il coso lì il fefrenolo il pirulo la cosa si chiama il clitoride luchi ma che cazzo dici ah raga vi giuro non c'aveva il clitoride ma te l'ha detto lei ma no l'ho scoperto da solo sono stato lì sotto un quarto d'ora a cercare te l'avrebbe detto ma poi non ho capito scusa tu lo sai com'è fatto un clitoride si mi sono visto un tutorial di 20 minuti sui born su come leccarla e ti giuro che lei quel cosetto lì quel titino ciao ciao avete saputo la grande notizia della ragazza senza clitoride no di nuovi responsabili della radio e chi sono ce l'avete davanti e giovedì c'è la prima riunione abbiamo scoperto la rubrica musicale quella dell'oroscopo quella dei grandi personaggi storici vi potrebbe interessare sì però noi avevamo quella cosa da fare no no è comunque tutto il giorno secondo me cambierete idea molto presto andiamo ok ciao ciao c'è regalami quella mi mette troppa paura comunque cioè un po' si Vabbè cammetta relaxe prestudio a casa mia tu hai rubrato l'erba e non ancora freda però ci sta lavorando